Famiglie interessate, genitori propensi al dialogo e dall'ascolto, sono questi due elementi che spiccano al termine della seconda giornata di presentazione del progetto europeo ESA ai familiari dei piccoli iscritti al CUS Palermo. L'incontro è stato aperto dal project manager Rosario Genchi, il quale ha tracciato le linee guida del percorso che i giovani sportivi giallorossoneri affronteranno nel corso di questa avventura triennale. Quindi la parola è passata al professore Antonio Bianco, che con la sua solita incisività e capacità di coinvolgere i presenti ha illustrato da un punto di vista maggiormente pratico, attraverso alcuni esempi, di cosa si occuperà ESA. Anche nel corso della seconda riunione non è mancato un momento di sorrisi, con l'intervista che proprio il professor Bianco ha dedicato al professor Michele Basile, tecnico di spicco del CUS Palermo. Uno dei grandi obiettivi di ESA è quello di avvicinare i ragazzi allo sport o riavvicinarli qualora il periodo preadolescenziale possa allontanarli dall'attività motoria. Lucia Pollina, consigliere d'amministrazione del CUS Palermo con delega ai progetti europei, ha rinnovato l'appuntamento col kick-off d'avvio del progetto, al quale saranno presenti i partner internazionali. Valentina Polizzi, psicologa del progetto ESA, ha sottolineato che questa è una grande occasione per conoscere meglio i propri figli, scoprendo necessità, difficoltà, speranze che possono emergere attraverso lo sport e che magari senza avrebbero fatto fatica ad essere espresse. ESA Program parte spedito, una grande avventura targata CUS Palermo.